Era un bambino piccolo, magro, un nerd, un vero nerd, e per fortuna in collegio c'era un prete che faceva i giochi di prestigio, le magie, un prete in convento con una stanza piena di libri e di... Sì, no, no, non è successo mai niente! Una stanza piena di libri, è abbastanza normale! Un prete con una stanza piena di libri? Certo, certo! Ce ne sono! Ma a te non è mai successo niente? No! Trucchi di magia, quindi... Meglio di così non poteva andare! Mi metteva il braccio in un tubo, poi mi dava fuoco, mi ficcava la testa in una cassetta, poi mi infilava le spade, mi segava in due, in due! Però alla fine mai niente altro! Tutte quelle cose edificanti che si imparano in qualsiasi seminario! Questi sono i preti che vogliamo! Esatto! Questi, non quelli... Preti, maghi! Sei andato a Hogwarts tu, letteralmente in un collegio di magia! Grazie!